E non ho più pezzo! Eccoci qua, secondo round, prima gara Brand Dutch di questo campionato personalizzato su Atomobilista 2 Ci ritroviamo, finalmente, sempre con la Nissan, siamo secondi in campionato Per quello straordinario risultato in gara 2, inaspettato Vediamo che succede a Brand Dutch Con questi colori autunnali, fantastico Mamma mia come lavora il traction control, lo potete vedere in basso a destra della Dutch Come taglia l'acceleratore, che sarebbe la linea verde Come vedete dalla webcam che ho posizionato sull'acceleratore Che è sempre a bomba e invece come taglia Questa macchina qua mi piace particolarmente Poi devo assolutamente mettermi a provare anche le altre Mamma mia che controllo, ragazzi Uh, ho toccato con il posteriore Che controllo, ragazzi Questa qualifica Hai visto come taglia? Figueredo 1.26 Io quanto? Un secondo e otto, mamma mia Quanto mancano? 5 minuti e tre E trenta Dai, mettiamo così Anticipiamo la frenata Saliamo sul cordolo sulla sinistra Accelerazione progressiva C'è il TC che taglia costantemente Allunghiamo un pochettino Andiamo a stringere Dai, 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 dai Uh, che controllo Due decimi Un secondo e venti dal mio best time Quindi se vorrebbe dire top ten Vediamo Anticipiamo, terza La buttiamo dentro Qualche colpetto d'acceleratore Forza Vediamo dove frena lui Va bene Occhio qui Mamma mia Stiamo guadagnando Due secondi Potremmo essere in top ten Due e due Ragazzi, ci portiamo una pola a casa E tre e ventisei Bomba Bomba, ragazzi Mamma mia Un minuto e quaranta Oh, oh, oh Pole position E non ho più pezza Uh Grandioso Senza pezza Me la sono portata Grande Mamma mia, ragazzi Incredibile Che performance, ragazzi Sessantadue millesimi Tutto pronto, ragazzi Dai, dai, dai Recuperiamo Mamma mia Che è infilata Dai, sette minuti Di tuono Ah, largo Dai, 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 dai Proviamolo in tre No, due Cannone È uscito È uscito a bomba, ragazzi Qui si deve frenare prima Per accelerare prima Cavolo Ora si infila Figurati Prego Dov'è l'altro Dov'è l'altro? No, 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 no Lo lasciamo scorrere Guardalo Guardalo Dov'è passato Incredibile No Uh Io le butto due Eh, sì In seconda qua Anche qua Eh, no, chicco Mi devi lasciar passare, chicco Devo passare io Lungo Eccolo là Un errore, raga Eh Ma sì Mettiamogliela la prima Due minuti Guarda come si avvicina La stavo perdendo Mauricio Io diretto a versare il campionato Mi devo lasciare lo spawn Mamma mia Come è uscito questo? Ma che è il booster questo? È il DRS Guarda Cioè Questo errore Fabri 52 secondi Perdere due posizioni No No No, 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 no No, 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 no Da casa mia Entro Da casa mia Dai, dai Da slatto Sì, però chicco Do Che chi da bomba Che chi da bomba Pone lui Mamma mia non esiste non esiste yes mamma mia che gara che gara ragazzi mamma mia va bene ragazzi se questo video vi è piaciuto se questa gara vi è piaciuta brandaccio lasciate un like iscrivetevi al canale mi raccomando e noi ci vediamo per gara 2 ciao